Allora il nostro motto è incontriamoci con il sorriso perché questi bambini vengono qui innanzitutto per divertirsi, per socializzare e molto probabilmente anche perché alcuni nostri consigli in questi quattro giorni possono essere gli utili poi per crescere meglio. E' con questo motto che sono iniziati gli Academy Summer Camp 2022 di Ciccio Graziani dedicati a bambini dai 6 ai 14 anni alla presenza appunto del campione del mondo. Cosa conoscono questi bimbi di quei mondiali dell'82? Ma loro conoscono poco, perché sono i genitori, le mamme, il papà, il nonno che dice guarda che ti alleni con Graziani, tanti ragazzi hanno visto adesso con internet, con social, riescono poi a rivedere alcune immagini e quindi sono contenti di allenarsi con me. I campi estivi organizzati da Olmo Ponte e Fila Museum dureranno sino al 7 luglio sul campo Ciccio Graziani ed il suo staff composto dal figlio Gabriele, dall'ex della Roma Boni e dall'ex portiere di Serie A Capparoni allenano i bambini all'interno del centro sportivo Luciano Giutti. Il rapporto dei più giovani con il calcio e come è cambiato? Il rapporto è sempre quello di ragazzini entusiasti, di bambini che hanno voglia di correre, di divertirsi, quando si allenano questi bimbi o anche i ragazzini di 14-15 anni sono loro che ti regalano sorriso, ti regalano entusiasmo e tu metti a loro disposizione volentierissimo anche la tua esperienza di tanti anni di calcio dal punto di vista tecnico. La voglia è sempre quella di stare insieme, di socializzare, i bambini mangiano qui, poi c'è un po' di decreazione, poi il pomeriggio si rifà ancora qualcosina e poi dopo vanno a casa che sono stanchi, ma sono stanchi e felici. Campi estivi davvero aperte tutti grazie anche a Fila Museum. Il loro supporto è importante perché senza quel supporto lì molto probabilmente per le società sarebbe all'inizio soprattutto un costo da dover sopportare. Muoviamo la palla, forza!